Controlli a tappeto dei carabinieri in questo fine settimana, oltre 140 infatti le persone identificate. L'obiettivo è quello di garantire una presenza capillare su tutto il territorio al fine di contrastare i reati contro il patrimonio, quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché limitare l'abuso di sostanze alcoliche tra i più giovani, oltre che far rispettare la normativa anticontagio. Il primo intervento di rilievo venerdì pomeriggio attorno alle 17 ad Arezzo, dove i militari sono intervenuti per un furto in un supermercato, hanno così denunciato una donna e restituito il maltolto all'esercizio commerciale. Durante la notte tra venerdì e sabato, poi, le 25 pattuglie impegnate hanno identificato 141 persone e controllato 62 veicoli. Sono state levate contestazioni al codice della strada e ispezionati alcuni locali pubblici. Tra molti interventi fatti per disturbo alla quiete pubblica, tre quelli di maggior rilievo, uno a Lucignano in un bar, un altro a Terra Nuova a Bracciolini per una rissa, colpi di bottiglie e sassi ed infine a Sansepolcro, sempre per una lite. L'attività di controllo straordinario del territorio in tutta la provincia aretina continuerà e si intensificherà anche nei prossimi fine settimana.